oggi è venerdì quindi siamo andati al mercato vi faccio vedere velocemente cosa abbiamo preso poi siamo passati anche all'Eurospin e alla Lidl vi mostro un attimino la spesa così so che vi interessa sempre vedere cosa compro quindi vediamo cosa abbiamo preso facciamo direttamente così ve le faccio vedere in mano le cose così facciamo prima allora abbiamo preso alla Lidl filone di semola poi questa confezione di mozzarella impanate che erano in offerta con la carta per la che per chi ha la carta Lidl plus vado a metterla in congelatore eccoci qua poi una confezione di funghi champignon una confezione di proffie pasta fresca e anche questa è in offerta per chi aveva la carta poi due confezioni di uova due confezioni di carote anche queste sempre scontate per i possessori della carta della Lidl infine un po di banane ultimamente stiamo prendendo queste bio perché costicchiano un attimino di più però sono veramente buone non si rischia di prenderle magari dentro sono già nere e sono da buttare invece queste bio le compri e sono buone e il sapore è tutta un'altra cosa e alla fine un pacco di zucchero poi prendiamo la spesa della dell'euro spin euro spin una confezione di queste tortine di carote mandorle tipo le camille diciamo quelle della molino bianco una confezione di cosciotti di pollo diffusi di pollo poi due confezioni di questi fish burger sono buoni questi quando siete di fretta non sapete cosa fare un attimo li cuociate in padella e sono pronti li metto in congelatore poi c'era la lonza di suino a trancini abbiamo preso due confezioni due confezioni non so più dove poggiare poi un pacco di questi tortellini a prosciutto crudo una confezione di doppia diciamo di stracchino questo è molto buono lo prendo sempre era in offerta un euro poi grana padano in offerta infine due confezioni di succo di anas poi mercato al mercato diciamo questo è un bel mercato grande infatti vado fuori paese per quello di paese piccolino alla fine non c'è granché invece qui si trova anche il pesce in paese invece no abbiamo preso un po di cosine e pesce soprattutto ve lo faccio vedere magari poggiato sulla cucina che va meglio al mercato abbiamo preso un po di zucchine due peperoni rossi 3 kg di patate perché erano offerte a 3 kg a 2 euro poi un chilo di pomodori ciliegini e mezzo chilo di datterini un mazzo di finocchi è enorme perché mi sono fatta lasciare anche tutte le foglie perché mio babbo in campagna ai conigli quindi dato di lasciarle così le diamo a loro quindi un mazzo di finocchi e poi il pesce abbiamo preso tre pezzi di salmone che era in offerta anche questo sei orate erano bellissime e infine un po di totani tutto qua ora vado a sistemare tutto magari lo facciamo insieme allora il pesce e la carne la carne sicuramente la sistemo stasera comunque sia di riprendere quel pezzo perché la sistemo in congelatore già fettata pronta pesata quando mi serve tiro fuori scongelo ed è pronto da cucinare il pesce invece volevo metterlo sottovuoto con la macchinetta perché in congelatore si forma sempre quell'odore strano di pesce che non so se è il pesce che rilascia questa puzza che poi non è che sia puzzolente però questo odore di pesce oppure se è per il fatto che lo fa proprio il congelatore non lo so quindi niente i totani che erano congelati e prima che si scongelino li metto subito sottovuoto e li metto in congelatore io di macchinetta del sottovuoto ho questa che ho preso alla Lidl l'avevo trovata scontata in offerta e l'ho presa perché mi pare quando sul volantino la metto in offerta 24,90 mentre io l'avevo trovata perché a volte se resta un prodotto per tanto tempo lo mettono scontato l'avevo trovata e comprata 17,90 mi pare non so quanti sono dovrebbe bastarmi così io anziché tagliarla prima la metto sotto cioè la sigillo e poi la taglio dopo che l'ho sigillata ecco qua adesso la toglio la toglio appena appena sotto è finita la busta adesso la chiudo togliamo l'aria e sigilliamo speriamo che così faccia meno d'ora in congelatore preparando il salmone sottovuoto mentre le orate le prima le squamo prima di congelarle ciao ciao Grazie a tutti. 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 Vi faccio vedere un pochettino come abbiamo sistemato, ma tanto è provvisorio perché devo mettere sottovuoto la carne e congelarla. E' lo stesso il pesce, solo che prima di metterlo in congelatore volevo sbrinarlo e pulirlo. E niente, solitamente la verdura la metto nel cassetto, poi altrimenti la metto qua sopra. E qua abbiamo le zucchine, vedete la carne, poi lo faremo insieme, pomodori e peperoni e poi qua la carne che andrò a congelare e le ultime cose che ho preso e poi come trovo la carne le sistemo bene. e niente, ora prepariamo il pranzo dato che sto cucinando pensavo di farvi vedere cosa sto preparando una cosa veloce perché è già ora di pranzo come vi ho detto, siamo tornati tardi comunque qua ho messo un po' di olio e ho messo a soffriggere un pezzo di scalogno un mezzo scalogno e poi ho tagliato dei pomodorini di ciliegino e li sto lasciando andare quando saranno ben cotti aggiungerò un po' di pesto e poi vi faccio vedere un attimo poi nel frattempo sta bollendo l'acqua per la pasta quando poi siamo al punto di aggiungere il pesto vi faccio vedere allora l'acqua sta bollendo quindi mettiamo questa pasta fresca che fa fredda io solitamente la divido in due volte che fa fredda Ora i pomodorini sicuramente sono pronti, quindi gli do una girata, aggiungo un pochettino di acqua della cottura della pasta come prima, la pasta nel frattempo è quasi cotta, si vedono i pomodorini? Sì, si vedono, ecco qua, ora i pomodorini aggiungo il pesco, io ce l'ho dentro questo contenitore perché era già iniziato e quando all'inizio lo metto in un contenitore con il coperchio, gli do una girata, faccio prendere il calore anche al pesto e poi spengo un attimo il sugo, in modo che la pasta continua a cuocere ma il sugo non si consuma. Gli rimetto il coperchio e lo lascio stare un attimo. Vado a scolare la pasta che è pronta, basta un attimino lo spengo. E ora verso la pasta dentro il sugo. E accendo anche il fuoco, al minimo però. Nel frattempo che continua a insaporire, aggiungo il top finale, che è praticamente una mozzarella tagliata da bambino. E la faccio sciogliere insieme alla pasta. Allora gli metto un attimino il copertino e lascio stare, in modo che la mozzarella fila. Ecco qua, diciamo che la pasta è pronta. Vedete come fila adesso la mozzarella? Spegniamo e impiattiamo. Ed ecco qua, la pasta è pronta, provatela perché è davvero buona. Allora, siccome Andrea sta facendo il lavoretto con lo scaldavagno, quindi non posso usare l'acqua per lavare i piatti, nel frattempo mi vado a tagliare la carne che abbiamo preso stamattina, la peso, la preparo, la metto sotto vuoto così è pronta da congelare. Mi sono accorta che bustos per il sotto vuoto non ne ho abbastanza, quindi quelle che ho le tengo da parte per mettere il pesce e la carne alla fine le vado a mettere in queste bustine della Lidl. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ecco qua, la carne è tutta pronta, adesso la metto momentaneamente in frigo così quando andrà finito con lo scordino, do una pulita al congelatore prima di congelarla. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.